Noi abbiamo impugnato tutti i DPCM, non c'è un DCPM che non sia stato contrastato, quindi attendiamo alcune sentenze, nel giro di, ci auguriamo pochissimo tempo, usciranno le prime sentenze e queste sentenze sanciranno se questi DPCM nel loro complesso, quindi mascherine, distanziamento, quant'altro, siano stati legittimi o meno. Già siamo in una situazione nella quale la compulsività di queste normative regolamentari, varate strumentalmente per non poter essere opposte, vale a dire ogni 15 giorni, ogni 10 giorni, siano legittime in quanto tali, perché questa compulsività di approvazioni, di regolamenti impedisce che prima che un tribunale possa esaminare se sono legittimi o meno, vengano sostituiti da altri regolamenti con mere sfumature che ne dovrebbero legittimare la modifica, ma si tratta ovviamente di una strategia totalmente manipolatoria. Quindi avanziamo, è un vero e proprio scontro giuridico ad altissimo livello, però qualche trincea la stiamo occupando ed è il nemico che retrocede, non noi che retrocediamo. Questo è il quadro ad oggi, per sintesi ovviamente, e in questo contesto in cui possiamo garantire al popolo italiano che niente, nulla di quello che sta subendo rimarrà impunito, questo lo possiamo garantire perché abbiamo in corso un'opera di contrasto, di reazione e non solo di resistenza, caro Nino, perché noi siamo al contrattacco. E questo è il messaggio importante che tutti gli italiani devono sapere e conoscere. Cioè noi, malgrado si sia silenziati dal mainstream, ma in questo momento stiamo mordendo, e anche in maniera piuttosto feroce, come poi proseguirò e capirete, questo grande elefante che apparentemente sembra assolutamente inattaccabile, ma che comincia a dare qualche segno di avere un po' di problemi nelle sue zampe. Il secondo atto concreto che stiamo mettendo in campo, e che è già in campo, è quello che vede la richiesta, con provvedimento di urgenza, davanti al giudice civile, di abrogazione della utilizzabilità dei dati derivanti dagli esami dei tamponi PCR. Tutta la narrativa sulla gravità del Covid si fonda su una leggenda ormai di cui si è svelata la sostanziale infondatezza, che è rappresentata appunto dalla validità dell'esame tamponi. Le critiche sono state sollevate fin dall'inizio da moltissimi veri scienziati e da molti veri medici, ma da dicembre a gennaio è intervenuta una svolta ai massimi livelli, vale dire, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha finalmente evidenziato in maniera assolutamente chiara ed inequivoca che le modalità con cui questi tamponi venivano svolti erano modalità non scientificamente accettabili e che avevano l'unica finalità di trovare un qualsiasi possibile virus da debitare, sicché sempliciter, al Covid-19. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità è intervenuta per affermare la necessità di modifica integrale delle modalità di sviluppo dei tamponi PCR. Perché? Perché nel caso in cui questi tamponi venissero utilizzati in maniera corretta, probabilmente, anzi sicuramente, si eviterebbero i cosiddetti falsi positivi, che non sono una percentuale modesta perché, secondo un calcolo approssimato per difetto, potrebbero addirittura arrivare all'80-85%. Ora, se noi scorporassimo dalle statistiche dei casi contagiati l'80% perché quell'80% è sbagliato tecnicamente, ben si comprende che i casi contagiati si ridurrebbero statisticamente a livelli sostanzialmente irrilevanti. Quindi sottoporremo al giudice la necessità che valuti, se sia ancora possibile, utilizzare questi dati come dati da diffondere all'opinione pubblica. Perché l'opinione pubblica è portata a drammatizzare una realtà che non ha la valenza di drammaticità. E questa è una grande manipolazione che noi ci auguriamo il Tribunale possa rimuovere quanto prima. L'udienza è fissata per il 24 marzo. Quindi gli esiti, prevediamo che entro metà aprile siano licenziati, per cui avremo modo di comprendere se il primo fondamentale tassello della asserita eccezionalità di questa epidemia ha un fondamento scientifico o meno. Perché questo è il punto. Noi non facciamo come giuristi, non prendiamo una posizione preconcetta. Noi sottoponiamo a un terzo, che è giudice, una tesi che si fonda su evidenze scientifiche. Quindi non c'è da parte nostra nessun preconcetto neanche favorevole ad una tesi rispetto ad un'altra. Noi ci limitiamo a raccogliere gli studi che vengono licenziati da varie autorità in materia sanitaria e li riversiamo in atti rispetto ai quali chiediamo al giudice una valutazione. L'auspicio che abbiamo è che ovviamente non ci siano delle interferenze, ma sarà molto difficile che si possa pervenire ad una situazione nella quale non venga dato credito all'organismo più importante dal punto di vista sanitario, che appunto è l'OMS. Siamo ovviamente fiduciosi quindi che anche questo problema, che coinvolge direttamente tantissime persone costrette a fare un tampone su dei presupposti che potrebbero non essere scientificamente validi. Io ho casi di persone licenziate perché non si sono fatte sottoporre ad un tampone dopo magari averne fatte 20 tamponi, perché accade anche questo. Ci sono strutture private e pubbliche dove i dipendenti sono sostanzialmente torturati, perché poi farsi infilare un cotton fioc in una narice crea comunque un'invasività oggettiva che solo un masochista può accettare che venga a essere così reiteratamente poste in essere. e soprattutto l'inutilità sostanziale di un procedimento di questo genere deve essere assolutamente evidenziata, perché purtroppo accade che vi sono ricorsi per ora fondati solo ed esclusivamente sulla teorizzazione della non costituzionalità del tampone, ma in realtà il problema è un altro, è che scientificamente siamo di fronte ad uno strumento che non ha basi per poter essere, perlomeno come viene normalmente utilizzato, per poter essere posto a fondamento di alcun dato statistico. Questo è il punto essenziale. Ovviamente se il messaggio che uscisse da questa sentenza fosse derubrichiamo percentualmente i casi contagiati da 100 a 20, a 10 o a 5, capite bene che il problema sarebbe comunque in gran parte risolto. C'è anche da aggiungere che la presunta contagiosità del Covid-19 dal punto di vista numerico rimane comunque molto modesta. Siamo di fronte a qualche centinaio di migliaia di contagiati, malgrado tutti i tamponi, a fronte normalmente da 4 a 9 milioni di contagiati da influenza, influenzale. Quindi anche in questo contesto il depotenziamento della validità del tampone determinerebbe un'ulteriore assenza di drammaticità in questa sindrome influenzale. Abbiamo chiesto in questa causa un ulteriore segmento che per una strana legge del contrapasso ci è stata suggerita dal presidente attuale dell'AIFA, il quale si è spinto addirittura oltre certe nostre tesi, che non sono tesi nostre ovviamente, sono tesi scientifiche, ed è pervenuto a sostenere che i tamponi non siano un strumento affidabile perché non misurano il gradiente di intensità del virus. Sarebbe come dire, ha detto lui, con una metafora che io riprendo e che mi sembra molto efficace, sarebbe come dire che noi facciamo un esame e ci viene accertato che abbiamo colesterolo come lo abbiamo intrinsecamente, ma non ci viene detto quanto colesterolo abbiamo, quindi non possiamo sapere se è troppo o se è poco. E in questa metafora credo che ci sia la sepoltura completa dell'affidabilità dei tamponi. Cioè individuare un virus non significa che il virus abbia un gradiente di aggressività tale da giustificare scientificamente qualsiasi intervento terapeutico. Questo è il punto essenziale.